Oggi il sindaco Armelao ha contestato le informazioni diffuse da alcuni quotidiani in edicola che affermavano che a Chioggia sarebbero giunti con la Rimona, il portare infuso e battente bandiera maltese, i quattro naufraghi salvati dal naufragio in cui 41 hanno perso la vita. I quattro erano stati salvati dopo alcuni giorni da quando la tragedia si è consumata e allontanati dallo stesso luogo delle correnti. Nelle precisazioni rilasciate dal sindaco viene ribadito che la notizia è falsa e non si sa ancora chi l'abbia diffusa. Il primo cittadino ribadisce che a Chioggia non ci sono posti attualmente disponibili per accogliere persone. Prima si devono sistemare i 173 nuclei familiari in attesa di un'abitazione. Al momento in cui abbiamo steso il testo la nave il cui arrivo è previsto a Chioggia in serata ha da poco oltrepassato San Marino. Le immagini del naufragio sono di Sea-Watch. Il 14 agosto viene a gustarti la festa all'Osteria Veneta alle braci di Ferragosto una gustosa grigliata tra amici alla console da Radio Peter Pan di Jai Demo. Ti aspettiamo. Prenota al 380-892-0113. Osteria Veneta via Brondolo 2 Chioggia.